Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana, TV in apertura per la cronaca, siamo a Firenze e torniamo a parlare dei due ragazzi belgi trovati morti all'albergo Minerva in piazza Santa Maria Novella domenica pomeriggio. L'autopsia potrebbe slittare di 10 giorni, intanto è stato sospeso il farmacista che ha venduto il farmaco senza ricetta, tutti i dettagli in questo servizio di Gigliola Caridi, vediamo. Potrebbe slittare di 10 giorni l'autopsia sui corpi dei due fratelli belgi trovati morti nella loro stanza nell'hotel Minerva nella centralissima piazza Santa Maria Novella a Firenze domenica scorsa. L'avvocato Dimitri Caciolli, difensore del farmacista 27enne indagato a Firenze per omicidio colposo riguardo alla morte dei due fratelli, ha detto che il suo assistito è molto provato. Si tratta di una persona mite che sta provando un grande dispiacere per quello che è successo. Il farmacista è colui che ha venduto senza ricetta due scatole di un potente analgesico a base di opioidi, l'oxicodone cloridato, ingerito in 42 pasticche insieme a birra e altri alcolici. Un mix che avrebbe causato i due decessi, circostanza da stabilire con l'autopsia. Tuttavia la stessa autopsia prevista dal PM Giacomo Pestelli domani potrebbe slittare perché lo stesso avvocato Caciolli ha presentato al GIP una riserva di incidente probatorio a cui, eventualmente, farà seguito la vera e propria richiesta. Secondo quanto spiegato, se effettuata in incidente probatorio, l'autopsia potrebbe slittare di circa 10 giorni. In questo caso, infatti, a eseguirla sarebbe un medico legale incaricato dal giudice e non dal PM Pestelli. Intanto, secondo quanto si apprende, al farmacista è stato notificato il provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro da parte della proprietà della farmacia, dove il 27enne è dipendente. La Corte d'Appello di Firenze ha condannato a sei mesi di reclusione, pena sospesa, l'ex procuratore generale di Firenze, Beniamino De Idda, imputato di aver rivelato segreti di ufficio e di accesso abusivo ai sistemi informatici. Stessa pena per gli altri due coimputati, il dirigente all'epoca dei fatti dell'ASL 10 di Firenze, Giuseppe Petrioli, e l'ex assistenza giudiziaria di De Idda, Monica Di Laghi. Il processo di appello è stato celebrato dopo la decisione della Cassazione che nel luglio del 2018 aveva annullato la sentenza di assoluzione pronunciata dai giudici di secondo grado, rinviando per un nuovo processo di secondo grado. E torniamo a parlare delle Olimpiadi, Firenze e Bologna, se ne è parlato oggi in un convegno, in una tavola rotonda, Olimpiadi del 2032, un sogno a cui credere. Vittorio Betti. Olimpiadi 2032, Firenze e Bologna a Braccetto. Oltre il sogno è il tema anche di un primo incontro qui a Firenze che si è svolto in Palazzo Strossi, al quale hanno partecipato tutti gli amministratori della città e non solo, dai sindaci Merola e Nardella, ai presidenti della regione Bonaccini ed Enrico Rossi e anche a parlamentari, per esempio bolognesi doc, come Romano Prodi e Pier Ferdinando Casini. È un sogno sportivo che dà il modo di sprigionare energie positive sotto il profilo sociale e culturale di due città che si devono integrare. D'altronde sono già quasi legate in un'area urbana comune, per cui credo che abbiano fatto bene i sindaci a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Io ho studiato attentamente il problema e ho in testa delle ipotesi abbastanza diverse da quelle comuni per trasformare il sogno in realtà. Questa è la cosa, l'Olimpia è di una dimensione enorme e bisogna avere un'organizzazione che sia capace di fare un progetto del genere. È un sogno, ma come ci insegnano i grandi padri della nostra città, senza sogni non si fa neanche un primo passo. Noi abbiamo bisogno di sognare e poi l'Italia ha fame di qualcosa di grande. Non è vero che i grandi eventi portano disgrazie, guardate quello che è successo a Milano con l'Expo. Se si gestiscono bene i grandi eventi possono essere un volano straordinario di sviluppo e di crescita. Queste le parole del sindaco di Firenze, Dario Nardella. Per il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, comunque c'è molto da lavorare, soprattutto sul fronte delle infrastrutture, sulla viabilità e i trasporti. Ma i suoni bisogna stare attenti che non diventino incubi e quindi bisogna mettere le cose in linea. La Toscana ha un ritardo in termini infrastrutturali anche rispetto all'Emilia che deve essere rapidamente colmato. E proprio di infrastrutture e di carenza di infrastrutture si è parlato oggi sempre a Firenze e ci racconta tutto Rachele Campi. Oltre 5,4 miliardi di euro, questo è quanto la Regione ha investito di risorse proprie tra il 2014 e il 2019 per le infrastrutture e la mobilità. In tutto però, per dotare la Toscana di un sistema infrastrutturale di trasporti adeguato, sono già programmati 13 miliardi di investimenti infrastrutturali, riferiti quasi esclusivamente ad opere di competenza nazionale. Di questi 13 miliardi, solo 5,5 sono stati effettivamente utilizzati, ma devono essere ancora realizzati interventi per un valore di 7,6 miliardi. Sì, noi rivendichiamo il fatto di avere fatto una grande cura del ferro, sia con le linee regionali, doveppure abbiamo investito, abbiamo investito sia per avere nuove linee, raddoppiarle, e abbiamo investito anche per avere nuovi vagoni, nuovo materiale rotabile. Questo è importantissimo, bisognerà che continui anche per il futuro. Affinché questa avvenga bisogna realizzare la stazione dell'alta velocità, altrimenti la stazione di Firenze e di Santa Maria Novella è piena come un uovo e non entra più nessuno e ritardano gli stessi treni regionali già ora perché confliggono con i treni dell'alta velocità che nel frattempo vengono dirottati e ci bypassano. Questo mi pare un punto fondamentale, bisogna procedere e terminare finalmente l'affidamento della gara del trasporto pubblico su gomma che prevede il dimezzamento dell'età dei pulma che circolano per la Toscana e anche questo è il risparmio di CO2. La dotazione infrastrutturale della Toscana che deve migliorare, che si deve qualificare, deve servire anche a riconnettere le tre Toscane. Vale a dire la Toscana, quella metropolitana, quella più antropizzata, quella più infrastrutturata, quella che ha retto meglio la crisi, che produce la maggior parte del nostro Pili, che è quella lungo l'asta dell'Arno con la Toscana della Costa, che ha grandissime potenzialità legate ovviamente allo sviluppo dei porti e al turismo, e quella delle aree interne che anch'esse hanno bisogno di una forte attenzione, di una connessione con il capoluogo regionale e di tutti i microsistemi tra di loro. E oggi è stato sospeso un arbitro, siamo a Firenze, perché durante un match di tennis ha usato parole e frasi moleste verso una ragazza che stava raccattando le palle. Tutti i dettagli, Caterina Gonnelli. Sei fantastica, sei molto sexy. Parole rivolte da un arbitro ad una minorenne raccattapalle nel corso di un torneo ATP al Circolo del Tennis 1898 di Firenze, uno dei più antichi e rinomati d'Italia. Le moleste andate avanti per tutto il match sono documentate anche da un video con Sonoro. Sull'episodio riportato oggi dal Tirreno, l'ATP dopo aver sospeso l'arbitro Gianluca Moscarella ha avviato un'inchiesta interna. L'arbitro avrebbe detto anche altre frasi allusive mettendo la minorenne in evidente imbarazzo e avrebbe tenuto un atteggiamento poco professionale anche durante il match che vedeva contrapposti Pedro Sousa e Enrico Dallavalle incitando Sousa a chiudere rapidamente la partita. Dell'accaduto sarebbe stata informata la scuola della ragazzina, un liceo privato di Firenze col quale il Circolo ha attivato un progetto scuola-lavoro in modo che possa essere informata la famiglia che deciderà se presentare denuncia o meno. Ora andiamo a Pisa, distacco di una piccola porzione di intonaco all'interno di un asilo nido. L'incidente è avvenuto la notte scorsa, la struttura è stata chiusa e senza che fossero presenti bambini e personale. Lo rende noto il comune che già in mattinata però è intervenuto per fare dei lavori. E andiamo a Prato, vive in un alloggio popolare con i sussidi del comune, il reddito di cittadinanza ma in casa nasconde 5 kg di hashish. La donna è stata arrestata dai carabinieri. Nadia Tarantino Spacciava hashish ai ragazzi, in larga parte studenti, 5-6 euro per un grammo ma i clienti erano davvero tanti a giudicare dalla quantità che è stata trovata e sequestrata dai carabinieri. 4,7 kg, valore circa 25.000 euro. Il pusher finito in manette è una donna italiana di 53 anni, pregiudicata, vedova, residente alle case popolari di via di Turchia, in carico ai servizi sociali e da tempo titolare anche del reddito di cittadinanza che arrotondava vendendo droga. Sono stati i carabinieri di Iolo a intervenire ieri. Per giorni sono stati seguiti i movimenti della spacciatrice e dei giovani che si rivolgevano a lei per fare scorta di stupefacente e ai quali spesso veniva dato appuntamento direttamente a casa. I clienti erano giovani anche perché prevalentemente questo tipo di droga si presta per una clientela che non ha una fascia di età elevata e prevalentemente anche in questo periodo dell'anno che coincide con la ripresa delle scuole. La droga contenuta in un involucro è stata trovata sopra un armadio. Panetti di hashish con tutto l'occorrente per confezionare le dosi, 2400 euro in contanti e un telefonino. Questo hanno sequestrato i carabinieri. Tutto lo stupefacente era contenuto all'interno dell'involucro. Riteniamo che si girasse intorno a 15 chili di capienza. Il materiale sintetico di cui è fatto l'involucro nonché il confezionamento sotto vuoto consentiva di eludere anche il fiuto dei cani antidroga. La 53enne che è stata messa agli arresti domiciliari deve rispondere di detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le indagini non sono finite. Il sospetto è che la donna non fosse sola ad occuparsi dello spaccio di hashish. Sono in atto a tutta quella serie di attività tecniche e di accertamenti specialistici per tentare di risalire ad un livello superiore e quindi di comprendere meglio qual era la dinamica criminale che c'era dietro questo grosso quantitativo di droga. Al via alla card del Fiorentino, già centinaia quelle vendute. Chiara Valentini. È possibile da oggi attivare online o in biglietteria la card del Fiorentino. iniziativa del comune che al costo di 10 euro per 12 mesi permette l'accesso nei musei civici per tutti i fiorentini residenti a Firenze o nell'area della città metropolitana. Il pass è nominativo e oltre ad ingressi illimitati nei musei civici comprende tre visite guidate negli spazi museali e culturali del comune di Firenze. C'è un tema fondamentale alla base di questo strumento, di questa card ed è semplicemente riavvicinare il più possibile, riallacciare il più possibile il rapporto tra patrimonio civico museale e i cittadini della nostra Firenze. È molto semplice, con gli strumenti semplificati, cioè 10 euro, una tantum, la gente torna volentieri nei musei. Dal punto di vista amministrativo si parla di via sperimentale perché ovviamente è quello che ci permettono gli atti. Io non nascondo che se, come credo, la card avrà successo e se i fiorentini risponderanno in maniera positiva porrò il tema ovviamente all'attenzione degli organi competenti e cercherò di mantenere questa misura come misura stabile. Credo che Firenze abbia bisogno di questo incentivo e i fiorentini e i nostri concittadini abbiano bisogno di sentire la possibilità di avere un passaporto culturale in tasca. Ogni volta che voglio entrare in Palazzo Vecchio esibisco la mia card e accedo, così come con Palazzo Vecchio e con tutti gli altri musei. Alla presentazione, insieme all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi c'era anche la giovane atleta Larissa Iapichino una delle ambasciatrici della bellezza di Firenze nel mondo. Io, essendo sportiva e studentessa, non avendo moltissimo tempo magari difficilmente riuscivo a ritagliare del tempo per queste cose qui però questo forse è un incentivo ad appassionarmi ancora di più. Restiamo a Firenze, torniamo a parlare del cinema fulgor chiuso doveva essere ristrutturato e i lavori sono ancora fermi e ora il Comune ha deciso di convocare la proprietà per sollecitare comunque qualcosa per la struttura. Vediamo. Sul fulgor la proprietà è da anni che cerca varie soluzioni per riaprire quei locali ma in realtà fino ad oggi non è andata a buon fine nessuna di queste soluzioni che stava cercando di percorrere. Questo non per cause ovviamente dipendenti dell'amministrazione comunale che siamo sempre stati a disposizione per cercare di capire quali erano le intenzioni della proprietà a questo punto incontreremo la proprietà nelle prossime settimane con i suoi tecnici e cercheremo veramente di spronarli per arrivare a chiudere una partita che tutto il quartiere aspetta e che tutta la città aspetta. In quell'edificio vige la norma salva cinema per cui per il 60% dovrà per forza rimanere adibito a sala cinematografica e quindi queste sono le regole e a queste dovrà tenersi la proprietà salvo che non voglia a quel punto vendere. Codice giallo su tutta la Toscana dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani ci sarà un graduale calo di pressione quindi con l'avvicinamento di una perturbazione quindi maltempo e l'allerta riguarda l'arrivo di forti temporali a proposito di forti temporali e di allerta ieri abbiamo parlato di un'esercitazione dell'Unione Europea quindi internazionale diciamo che sia i piani della protezione civile che le esercitazioni sono importanti ma soprattutto è importante un sistema di allerta efficace sicuramente valide nella misura in cui ci siano presenti dei sistemi di allertamento con la dovuta anticipazione teniamo conto che se sono sull'anno l'anticipazione minima è 12-24 ore e anche 48 per cui purché ci siano sistemi di comunicazione efficaci il problema di pericolo non sussiste se fosse sui torrenti sarebbe un po' diverso e ora andiamo al quartiere fiorentino delle Piagge dove è stata inaugurata un'area fitness vediamo nei giardini delle Piagge a Firenze arrivano 10 aree fitness le prime due allestite negli spazi verdi di via Liguria e via Lombardia sono state inaugurate dal sindaco Dario Nardella e dall'assessore all'ambiente del comune Cecilia Del Re un intervento da 55 mila euro entro la fine dell'anno il progetto che rientra nel piano effetto città per riqualificare le periferie sarà completato allora stiamo inaugurando le prime due aree fitness di 10 aree che realizzeremo tutte all'interno del quartiere delle Piagge in spazi verdi e questo per cercare di rafforzare sempre di più quel connubio che c'è tra ambiente, salute e sport quindi anziché aree giochi classiche abbiamo deciso di investire una somma anche rilevante su questo tipo di attività che potranno rendere ancora più accoglienti e vivibili i nostri giardini e i nostri parchi Continua il nostro lavoro in un'area di periferia che però si riqualifica sempre di più un milione di euro di progetti che riguardano l'area d'urbano, il verde pubblico aree fitness e giochi come quella alle mie spalle e luoghi di socialità e di vita pubblica credo che sia questo il modo migliore per fare delle Piagge un quartiere davvero vivibile in attesa dell'arrivo della nuova tramvia E ottobre il mese dell'affido familiare è arrivato alla settima edizione Sono ormai sette anni che il Comune di Firenze ha deciso di dedicare il mese di ottobre a un tema sociale rilevante come l'affido familiare Anche quest'anno sono molte le iniziative di informazione in cui le stesse famiglie affidatarie condividono la loro esperienza La promozione è al centro di tutte le nostre attività mirate a far sì che i minori possano essere supportati dalle migliori famiglie possibili Quindi noi chiediamo a tutta la cittadinanza alle famiglie, ai single, a tutte le persone disponibili di dare la propria disponibilità di avviare un percorso di autoconsapevolezza per capire A. che cosa è l'affidamento familiare B. come possono loro stare all'interno della dimensione dell'affidamento familiare perché ognuno ha delle proprie caratteristiche delle proprie peculiarità che possono essere messe a disposizione di un bambino di più bambini sempre nell'ottica di supportare la famiglia di origine perché l'affidamento familiare altro non è che non un grande servizio di solidarietà nei confronti delle famiglie è un servizio flessibile che può essere cucito addosso alle esigenze dei protagonisti con varie modalità in base al tempo che si può dedicare full time, part time, diurno e consentendo a tutti di essere genitori affidatari single, coppie o famiglie è un'iniziativa che sta dando buoni risultati proprio dal punto di vista dello scopo che si era prefissata ovvero la tutela del minore e la crescita del minore credo che in questi anni questa è la settima edizione del mese dell'affido il mese dell'affido sia servito come grande occasione di apertura alla cittadinanza grande occasione di coinvolgimento nella cittadinanza rispetto a questo tipo di attività attraverso informazione e formazione ora parliamo di luoghi medievali andiamo a Pistoia è stato firmato un accordo ci racconta tutto Patrizio Ceccarelli va in archivio con un risultato concreto e positivo la due giorni di Pistoia dedicata ai luoghi medievali alla quale hanno preso parte gli amministratori di una ventina di comuni di nove regioni italiane in cui si svolgono rievocazioni storiche che affondano le loro radici nel medioevo è stato infatti sottoscritto il preliminare di un accordo che prevede la realizzazione di un calendario comune delle varie manifestazioni da mettere in rete a beneficio dei tanti turisti italiani e stranieri appassionati di questo genere di eventi l'incontro di Pistoia ha avuto anche momenti di spettacolo come il corteo in costumi medievali che ha sfilato per le vie del centro storico culminando in piazza Duomo con l'esibizione degli sbandieratori della compagnia dell'orso di Pistoia sì, una grande soddisfazione sono presenti tanti amministratori da Trento fino a Marsala con la presenza del sindaco siciliano dove abbiamo lavorato per creare un calendario eventi e creare una rete di comuni medievali aperta aperta perché chi vorrà inserirsi lo potrà sicuramente fare nei prossimi mesi per dare a un turista italiano o estero la possibilità di scegliere secondo il proprio periodo di vacanza dove andare e cosa trovare nei luoghi medievali è ovvio che questo deve servire anche fra di noi di scambio culturale di collaborazione cultura, gastronomia e tradizioni soprattutto di tutti i luoghi medievali un bilancio assolutamente positivo cresciamo il numero di comuni partecipanti di luoghi medievali eccellenti da 4 regioni a ben 8 regioni quindi abbiamo un'esposizione nazionale 16 comuni eccellenti 4 dalla Toscana altri provenienti dal Trentino fino alla Sicilia con Marsala quindi un potenziale protocollo di intesa tra luoghi medievali eccellenti e con tante delegazioni che adesso tra poco sfileranno in Piazza del Duomo Restiamo in provincia di Pistoia perché la fattoria di Celle è stata giudicata il parco privato è stato giudicato il parco privato più bello d'Italia La fattoria di Celle di Santo Mato in provincia di Pistoia si è giudicata il premio il parco più bello d'Italia la villa del XV secolo attorniata da un grande appezzamento verde pieno di opere d'arte di proprietà dell'imprenditore pratese Giuliano Gori si è giudicata il premio per la categoria parchi privati mentre la sezione parchi pubblici ha visto prevalere i giardini della veneria reale di Torino al suo interno il parco della fattoria di Celle conserva una collezione di arte ambientale riconosciuta a livello internazionale voluta dalla famiglia Gori con il preciso intento di sperimentare un nuovo tipo di partecipazione nella creatività contemporanea la collezione Gori nata senza modelli di riferimento è divenuta poi un esempio per tante altre realtà in Italia e all'estero conta oggi 80 installazioni tra opere nel parco e all'interno degli edifici storici ogni anno ospita appassionati d'arte musei istituzioni di tutto il mondo per la selezione dei vincitori il comitato scientifico ha valutato i parametri previsti dal regolamento del concorso l'interesse storico artistico e botanico lo stato di conservazione gli aspetti connessi con la gestione la manutenzione l'accessibilità la presenza di servizi le relazioni con il pubblico e la promozione turistica il parco più bello è un concorso nazionale che ha proprio lo scopo di valorizzare l'inestimabile patrimonio di parchi e giardini presenti nella nostra penisola contribuendo a stimolare l'interesse e la sensibilità verso il verde nelle sue forme più alte al concorso partecipano tutti i parchi affiliati al network ilparcopiubello.it che ad oggi sono oltre Milde io mi fermo qui grazie per averci seguito vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport arrivederci grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri